Si è tenuta ieri sera in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli la chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco Adamo Coppola, ad intervenire prima del suo discorso il primo cittadino Franco Alfieri, che lo ha sostenuto durante tutto il percorso della campagna elettorale. Alfieri nel suo intervento ha nuovamente salutato i cittadini e rimarcato che il suo non è un addio ma un arrivederci. Illustrati invece dal candidato Coppola, attraverso dei video, i progetti che vedranno come la città cambierà. Per quanto riguarda il porto turistico, la stazione ferroviaria, l'area naturalistica di Trentova, il lungomare San Marco e il Lido Azzurro, la parola d'ordine per Adamo Coppola sarà puntare a migliorare i servizi e a potenziare il turismo durante tutte le stagioni dell'anno, attraverso le strutture realizzate in questi dieci anni di amministrazione Alfieri. Il nostro compito, quello di cui discutiamo tutti i giorni, è quello di dare una prospettiva a questi giovani. Questo è il nostro compito, questa deve essere la nostra domanda ricorrente, questo deve essere il nostro fino, questo deve essere il fine del nostro impegno. Noi dobbiamo dare ai nostri giovani un approdo anche nella loro città, questo è quello che faremo e per questo noi ci impegniamo, ci siamo impegnati in questi anni e ci impegneremo. Come dobbiamo fare a rispondere a questa esigenza primaria? La risposta è nel completamento della trasformazione della nostra città, sì perché noi dobbiamo fare in modo che la città di Agropoli diventi a tutti gli effetti una città turistica all'avanguardia e fare in modo che i nostri giovani siano i protagonisti di questo nuovo futuro della nostra città. Noi abbiamo parlato di turismo, certo, ma cos'è il turismo? Il turismo è persone in movimento e per quale motivo le persone si spostano? Le persone si spostano perché seguono le loro passioni. E allora cosa abbiamo fatto in questi anni? Visto che la gente si muove per passione abbiamo cominciato a pensare. La prima passione, la cultura. Siamo pronti. Castello, museo Acropolis, palazzo civico delle arti, fornace, teatro. Abbiamo tutte le strutture che, messe in rete, possono dare risposta a chi ama la cultura. Passione per lo sport? Anche qui siamo pronti. Palazzetti dello sport, campi sportivi, pista di atletica. Tutto ciò che serve per fare in modo che un evento sportivo, qualsiasi esso sia, possa avere soddisfazione nelle strutture che abbiamo. E poi ancora, la passione per il tempo libero, per la natura? Anche qui siamo pronti. stiamo facendo un lavoro bellissimo di riqualificazione del lungomare San Marco. Immagino l'abbiate visto tutti passeggiando sul lungomare. Che cosa è diventata quella spiaggia? Che prospettive dà per i nostri turisti, per i nostri cittadini e per coloro che vogliono venire in questa città? E poi la natura. Bene, siamo pronti anche qui. Abbiamo già fatto anche qui. Abbiamo preso Trentova. Ho cercato di impegnarmi al massimo per farvi comprendere la positività del nostro progetto. Credo che sia la cosa più importante. Stasera vi dico che concentrerò tutte le mie energie, tutte le mie forze al servizio di questa città. Ogni cellulo del mio corpo sarà concentrato per fare il meglio. Ce la metterò veramente tutta. Statemi vicino perché veramente sarà un impegno massimo ma sono sicuro di poter raggiungere importanti risultati.